Sulla bodypoppa Piero Romeo è passato adesso dietro la barca di Benesle ci perdonerà, ci perdonerà anche la bella moglie Monica che è venuta a salutarlo oggi e gli ha fatto molto bene visto il risultato è largamente nei 10 Piero Romeo dopo aver girato quarto alla bodybolina noi siamo però ancora su Benesle e la sua tecnica di bolina Vedete scorrere dietro la barca dell'inglese tutta la flotta che sta ancora scendendo in poppa aspettiamo la prima via rata di Benesle ci sono molte onde evidentemente si sta guardando intorno, è possibile che non manchi molto alla prima via rata, aspetta un momento favorevole non tanto per l'angolo ma anche nei confronti delle barche che stanno scendendo in poppa dobbiamo allontanarci perché c'è qualcuno che è uscito dalla bodypop nello stesso modo di Benesle ma è già 50 metri sotto vento a lui dove ci troviamo noi quindi gli stiamo attraversando la prua ancora Benesle non dovrebbe mancare molto alla vira il francese Guillaume Florin ha già virato ed è il primo vedremo il finlandese invece è già andato da questa parte è rimasto tedesco e canadese solo due barche sulla prua di Benesle nell'angolo di destra in questa seconda bolina vedrete probabilmente sullo sfondo capovita dell'isola d'Elba ha rivirato il francese chiaramente una virata in copertura esattamente a squadra su Benesle che chiaramente è la persona che Guillaume Florin sta controllando in questa fase della regata e allora restiamo ancora ecco Benesle su qualche onda adesso forse possiamo chiudere leggermente appena appena per cercare di riavvicinarci non vira ancora non ha ancora virato da quando è iniziato questa seconda bolina Benesle allora forse posso chiederti di girare di andare a vedere i suoi inseguitori perché al centro grazie